Ieri è venuto a chiedere 50 centesimi o un euro, però mi vedo ieri che la faccia non va bene, e piangeva anche. Non volevo andare all'ospedale, che il signore chiamava, lui non voleva. Lui si sentiva male da due anni, voleva morire, voglio morire. Lui diceva io soffro, non ne ho parenti, non ne ho nessuno, è inutile stare qua. Grazie.